Onorevole Cancelleri, dopo aver aperto lo svincolo, il bypass che congiungerà l'autostrada direttamente alla strada verso Agrigento senza più passare all'interno di Caltanisseto sta diventando una realtà. In concreto quanto lo consegnerete? Il 24 di questo mese apriremo questa bretella di bypass e stiamo definendo gli ultimi dettagli per stabilire anche l'orario di apertura. E' un altro risultato molto importante insieme a quella che è l'apertura dello svincolo di stamattina che regolarizza tutto il traffico per andare anche verso l'innesto con la 19. E' un altro risultato importante perché avanziamo ancora di più sui lavori. Io lo ricordo sempre, settembre 2019, quando sono arrivato al Ministero delle Infrastrutture, di questa strada ne mancavano ancora da completare 27 chilometri. Oggi sono rimasti soltanto i 4 chilometri della Galleria Caltanisseta, tutti gli altri sono praticamente completi o comunque in fortissima fase di lavori avanzati e sono ormai prossimi al completamente. E questa è una realtà molto importante che dà anche il senso di quello che è stato l'impegno di Anas, del direttore dei lavori, della CMC, delle imprese affidatarie che hanno lavorato e permettetemi di dirlo anche di una politica nazionale di questo governo molto attenta che da Pungolo ha fatto insieme con l'amministrazione comunale per riuscire a far arrivare questi risultati sul nostro territorio. Io spero che dal 2024 finalmente normalizzeremo quella che è la percorrenza anche per Caltanisseta, ma non solo, soprattutto per la provincia di Agrigento e finalmente cominciamo a mettere mano alla 122 Agrigentina, cioè alla cosiddetta via Borreman, se ormai non ne può più, è una strada che è fortemente danneggiata dal traffico pesante e in generale da un utilizzo massiccio che purtroppo in questi anni si è verificato. e cominceremo finalmente a dare anche un ristoro non solo alla città di Caltanisseta, ma alle tante persone che vivono in quella zona. Penso ad esempio al comitato di Mangialasagna, che almeno avrà questa visione concreta di un intervento che finalmente andrà a ripristinare quella viabilità di via Borreman. Grazie a tutti.